Non solo il bassanese nel mirino dei tagli che mettono a rischio i servizi per il cittadino, anche l'alta padovana ha le sue gatte da pelare. Coinvolta come bassano dall'accorpamento delle aziende sanitarie deciso dalla regione, che in questo caso cancellerebbe l'ULS premiata dal Ministero della Salute come la migliore d'Italia, Cittadella è ora anche sotto il tiro di Roma, visto che il governo ha in mente un piano di razionalizzazione della pubblica amministrazione che avrebbe messo gli occhi sull'Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso verrebbe quindi chiesto all'utenza di sobbarcarsi una trasferta nel capoluogo di provincia, una sorte che nell'area della Pedemontana Veneta è già toccata Castelfranco e che un paio d'anni fa sembrava dover toccare anche a Bassano. La politica è sempre quella a tagliare alle periferie per rimediare a spese che si affermano non più sostenibili e che quindi vengono tolte in una sola direzione. La preoccupazione è alta perché ancora una volta a farne le spese è il soggetto più debole di tutta la filiera, il cittadino.